ciao amico di facebook buon sabato anzi buon sabato da cade sasso conosci cade sasso impassibile un passo stupendo meraviglioso devi venirci siamo nel comune di cibo a 740 metri subito del mare sulla costiera dei cec una delle tantissime frazioni di cibo forse 20 o più cade sasso ed è bellissima perché in posizione dominante su tutta la bassa valpellina e morbegna e perché è molto solleggiata come tutta la costiera dei cec pensa qui il sole arriva all'otto e quarto del mattino se ne va intorno alle 16 tutti i giorni abbiamo il sole quindi una meraviglia da questo punto di vista e molto a meno è anche il paesino con tante case ristrutturate molto bene altre da ristrutturare il resto di fenomeno dello spopolamento è imperante pensa soltanto 20 residente mi diceva una persona del posto rientrata qui dopo anni di lavoro nel sondriese e a fronte di tantissime abitazioni quindi che danno il senso di quanto era popolato a suo tempo il borgo tantissime persone sono emigrate tante soprattutto verso roma e tornano d'estate tornano d'estate quindi il borgo si anima però in questo periodo chiaramente sono pochissimi residenti ma si danno molto da fare stanno allestendo dei presepi che punteggiano tutta la vita diciamo per una volta qui un'ose di pace e di tranquillità ciao amico di facebook buon sabato da cade sasso di cibo bati, 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 bati bati, bati, bati bati, 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 bati bati, bati, bati bati, 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 bati